Sono Greta Bettelli, ostetrica presso la sala parto di Fondazione Poliambulanza e faccio parte del gruppo Kairos. Il parto per una mamma che aspetta un bambino che non potrà vivere probabilmente a lungo è un momento molto atteso perché potrà finalmente conoscerlo e al tempo stesso molto temuto perché sarà il momento in cui condividerà del tempo con il suo bimbo che vorremmo non finisse mai ma che sappiamo invece potrebbe durare molto poco. Ecco allora l'importanza come ostetrica di favorire il più possibile il bonding tra mamma e neonato, di custodire la privacy della coppia, della famiglia, di aiutare i genitori a godere del momento presente, così unico, incoraggiandoli il più possibile ad avere e a costruire dei ricordi propri di quanto sta accadendo.